Ciao a tutti, proviamo a incrociare tre film, tre film che parlano di mafia, tre film che parlano dei nostri tempi. Il primo con il quale mi piace cominciare è abbastanza conosciuto, è un film del 2014 di Francesco Munzi che si intitola Anime Nere, un film molto premiato in Italia, uno dei pochi film dedicati all'andrangheta. La storia è quella di tre fratelli, tre fratelli adulti, due dei quali da Africa, dalla Calabria profonda, si sono spostati a nord, a Milano, dove hanno intrapreso delle attività criminali che mettono insieme diverse questioni, tra cui il traffico di stupefacenti. Il terzo fratello, anzi il primo, il fratello maggiore, Luciano, invece è rimasto ad Africa dove vuole coltivare la sua terra, allevare i suoi animali e non è interessato agli affari criminali. Però Luciano ha un figlio adolescente che si chiama Leo e Leo vorrebbe seguire le orme degli zii, vorrebbe fare quello che fanno loro, vorrebbe dimostrare di essere uomo e non ha per nulla un rapporto semplice con suo padre che invece da questo punto di vista sembra molto remissivo e rassegnato. Per una bravata Leo cercherà di dimostrare il suo coraggio sparando contro le vetrine di un negozio. Però questo episodio apparentemente marginale produrrà una serie di conseguenze che costringeranno i due fratelli a nord a scendere ad Africa per cercare di mettere pace a una situazione che sta degenerando. Finirà nel sangue. È un film molto forte, molto feroce, senza via di uscita, che racconta un'andrangheta brutale, non tanto per la violenza che mostra che poi in fondo è poca, ma per la ritualità tribale, familiare, dove le donne sono sottomesse se non addirittura complici e gli uomini dettano legge in tutti i campi della vita. Il finale ricorda quello di Fratelli di Abel Ferrara, che è un film gangster, potremmo classificarlo così, ma in generale è un film che mescola in maniera sapiente temi differenti delle mafie di oggi, perché mescola i riti ancestrali dell'andrangheta, ma anche il traffico di stupefacenti con paesi dell'Europa e il riciclaggio del denaro attraverso attività legali o semilegali. È una straordinaria fotografia dell'andrangheta, un film bello, pesante, ma che va visto. Rimanendo in tema, cito La terra dei Santi di Fernando Muraca, che è un film del 2015, che secondo me è molto meno conosciuto, film che parla di una vicenda di finzione, ma chiaramente ispirata dai fatti di cronaca reali, perché la protagonista della storia è una donna, un magistrato, che lavora sulla prevenzione contro l'andrangheta in quanto magistrato dei minori e quindi si trova a togliere la patria potestà a una serie di donne d'andrangheta legate all'andrangheta e si troverà a scontrarsi con alcune di loro anche, che ovviamente non accettano questa decisione per i figli, figli che vogliono seguire le orme paterne, figli maschi in particolare, e donne che però al contempo, donne d'andrangheta che però al contempo si rendono conto che possono, forse quella è la via d'uscita, forse quella è la salvezza per sé stesse e anche per i loro figli. Racconta uno spaccato della Calabria di oggi, in particolare bisogna pensare alle vicende del tribunale dei minori di Reggio. Il tema dei figli minorenni tolti alle famiglie è una grande questione, è una questione molto delicata, ma probabilmente è una delle battaglie cruciali contro l'andrangheta ai giorni nostri. L'ultimo film che cito non c'entra con l'andrangheta è La terra dell'abbastanza, che è il film d'esordio dei gemelli d'innocenzo, i gemelli d'innocenzo sono giovanissimi e sono stati appena premiati al festival di Berlino qualche settimana fa. È un esordio di quelli clamorosi col botto, perché parla di questi due ragazzi della periferia di Roma, borgatari si direbbe, che vanno a scuola non troppo convinti, anzi piuttosto svogliati, e tirano a campare. Una sera sono in macchina insieme, questo è proprio l'inizio del film, mettono sotto una persona, la investono, senza rendersene conto. Per caso si scoprirà successivamente che hanno ucciso, senza volerlo, un pentito, un collaboratore di giustizia. E questo omicidio fortuito è la svolta che permette loro di entrare in un mondo criminale che li ha sempre affascinati, un mondo criminale che li risucchierà, in tutti i sensi, e anche quale cose non andranno bene. Ho accostato questi tre film perché secondo me, seppur non narrando tutti lo stesso contesto, le stesse vicende, in qualche modo forse un aspetto in comune ce l'hanno. E fotografano tutti e tre una certa volontà di un certo mondo di giovani nel voler entrare in dinamiche criminali, rituali, familistiche, mafiose, con una parola. Volontà che probabilmente nasce dal volersi affermare, dal trovare un'identità, perché tutti i ragazzi che vengono raccontati in questi film hanno questa caratteristica, forse sono molto fragili in realtà, ma lì trovano un senso di appartenenza, ingenuamente, non sapendo a cosa vanno incontro, perché le conseguenze di quelle scelte li rovineranno, e non solo loro, anche le loro famiglie. Però probabilmente in questo c'è un tratto comune che li può rendere simili, può rendere simili queste pellicole, tenendo in considerazione quello che ho detto all'inizio, cioè che in ogni caso sono film belli, forti, efficaci, importanti, anche se non tutti così conosciuti, che raccontano uno spaccato del nostro tempo estremamente reale e quindi che meritano uno sguardo.